Non solo sport, al palazzetto di Gravelona questa era un po' la filosofia dell'amministrazione comunale e il prossimo 9 dicembre ci sarà un concerto gospel che servirà anche per fare della beneficenza sul territorio gravellonese. Ma sì, il palazzetto è nato per essere luogo di sport ma anche luogo di grandi eventi, di grande spettacolo e di aggregazione per tutto il territorio provinciale. Quindi pensiamo di iniziare con un evento molto bello che è quello del coro gospel che è già conosciuto nel nostro territorio e siamo sicuri che è sicuramente uno spettacolo piacevole. Ovviamente il ricavato deve servire in parte a sostenere ovviamente la struttura ma pensiamo che sia giusto anche che le altre associazioni, le altre realtà gravellonesi abbiano sempre delle ricadute positive da quella struttura. e quindi in questo caso è stato coinvolto il gravellone a calcio che ha sede proprio lì vicino e la Croce Verde che svolge un ruolo fondamentale da anni nel nostro territorio. Quindi è una prima occasione per testare la validità di questa struttura, speriamo che molte persone aderiscano. I biglietti al costo 10 euro sono acquistabili su Live Ticket e ovviamente saranno acquistabili sabato 9 dicembre, il giorno dello spettacolo. Che spettacolo sarà? Uno spettacolo proprio della miglior tradizione festiva, natalizia, quindi il concerto gospel del coro Black Inside tutto al femminile diretto da Maria Rita Briganti nato all'interno di un progetto di qualche anno fa di Arcademia quindi era un corso dedicato alla coralità gospel e che poi nel tempo è cresciuto. Grazie. Grazie. Grazie.